Buonasera a tutti, siamo qui al collaudo di Enea Bocchino per i sorteggi del nuovo calendario. Enea, sei pronto? Prontissimo. Ragazzi, un po' di concentrazione. Vai. Prima... È di Zannino. Ah, è di Zannino. È di pesca? Acuna. Acuna. Questa è la prima giornata, ragazzi. Prima giornata. Acuna. Chi sfiderà? Acuna. Questa è una partita facile, contro Santiago, vinceremo sempre. Dio. Onda verde. Onda verde. Non prego, anche mi chiamo. Te l'abbiamo adesso per domani sera. Puoi dimmi qua pure di rimanere. No problem. Acuna, chi è Acuna? Un bel ruolo. Sono anche io. Acuna è massimo. Ma ogni volta che ogni sessina non ti metti una macchia pochia. Acuna è massimo. Acuna è massimo. Acuna è massimo. No, no, hai fiscato a costa. Facci due fiscati a cuore. No, ragazzi. Una a te. Euromassi. Vai, vai Francesco. Santiago. Santiago contro Guastafeste. Veramente? Veramente. Non mi provo a pagare. Partita facile per i Guastafeste. Corvino contro la New Entry. Contro la New Entry. Roberto. Ah, Roberto. Ok, a posto. Ti spezza. Quando è la prima contrattiva, vingsem? Ormai sono abituato. Cosa sei su Francesco? È di per... Ma fare qualcosa? Non fare... Prima giornata. Ma se la reatta va bene, no?